FP Trasmissioni è un'azienda nata nel 1996, dopo una mia ultradecennale esperienza sempre nel settore dei motoriduttori e bicicloidali. La cosa che mi piace di più dell'FP Trasmissioni è il modo in cui operiamo e lavoriamo, l'ordine. In FP Trasmissioni mi occupo dell'amministrazione. Rivendiamo prodotti Bonfiglioni Transmitter in tutta Italia e in tutto il mondo. Noi possiamo stoccare anche molti prodotti che non ha il fornitore stesso, che sono obsoleti, oppure perché noi possiamo assemblarli e quindi crearli anche se non esistono più in commercio in quel momento. Sto seguendo il discorso dell'ufficio acquisti per la componentistica dell'assemblaggio di riduttori in officina. Essendo cresciuto insieme all'azienda ho avuto la possibilità di gestire sia fornitori che servizio tecnico commerciale per quello che riguarda tutti i nostri clienti. Il nostro prodotto è un prodotto facilmente vendibile, ma il cliente lo si mantiene solo se lo si riesce ad assistere per quello che è tutto il servizio post vendita. FP Trasmissioni è sicurezza, affidabilità, un servizio tecnico oltre che solo una vendita, partner molto preziosi per tutti i nostri clienti, veloce, affidabile, efficiente, garanzia sul prodotto, a disposizione del cliente per qualsiasi avvenienza pre e post vendita. Competitiva, sia per l'Italia che per l'estero. Servizio 24 ore e massimo rispetto verso il cliente.